Di nuovo con il dottor Piero Antonelli, direttore del Lupi. Parliamo di provincia, io direttore, poi adesso Saracinesco nominavamo, Barbarano e Viterbo, posti meravigliosi, straordinari. A volte si va a Saracinesco perché uno dice ma vado da Roma, vado a Percilia, a Licenza, sono 12 minuti di camminamento normale d'autostrada, si arriva in Saracinesco, il Monte Follettoso, i folletti che aiutano la popolazione locale a risolvere la questione, ovviamente siamo nella leggenda, della peste del Cinquecento, è un mondo meraviglioso. Quanto l'immigrazione è diventata ricchezza nelle province italiane, perché qualcuno, soprattutto gli amministratori provinciali, nel corso di questi anni, rispetto al fenomeno dell'immigrazione, hanno detto attenzione, le città hanno esasperato facendolo diventare un conflitto questo termine, da noi è diventato un valore, abbiamo recuperato anche dei valori all'interno delle società locali grazie alle comunità straniere. Nella provincia italiana quanto lo straniere è diventato una risorsa, direttore? Io ritengo che con processi giusti di integrazione lo straniere è diventato una risorsa, cioè in alcune realtà i processi di integrazione non ci sono stati, la provincia, così come il comune, non hanno contribuito a determinare un processo equilibrato di integrazione degli stranieri e quindi si sono determinati effetti di paralisi sul territorio. Ma dove gli enti locali, quindi penso al comune e alla provincia, hanno operato perfettamente, noi ci troviamo delle realtà dove l'integrazione è reale, dove non ci sono effetti destrutturati rispetto a questo tema dell'immigrazione e quindi si affronta il tema dell'immigrazione in modo equilibrato, a mio avviso. Questo spetta proprio all'ente locale fare questo, spetta al comune, in prima battuta, spetta alla provincia, creare le condizioni per un'integrazione dei territori. È evidente che le province hanno delle percentuali di immigrazione diverse sul territorio, penso a province con forti immigrazione del nord Italia e province del sud, che hanno bassi, inferiori livelli di immigrazione, così come l'immigrazione si attesta su livelli alti nelle grandi aree metropolitane. E su quello, prima lei mi faceva l'esempio, noi abbiamo fatto un progetto di integrazione sulle scuole con Save the Children, dove abbiamo realizzato nel corso dell'anno scolastico precedente, prendendo tre province a campione, la provincia di Roma, la provincia di Milano e la provincia dell'Aquila, un processo di forte integrazione degli immigrati nelle scuole secondarie superiori. Ecco quello che fa la provincia. I cittadini devono comprendere, a mio avviso, la realtà della provincia italiana e quello che le province mettono in campo. Mi piace a mio avviso. Io avevo una preside al liceo La Secchettani, era una bolognese, diceva dica sempre a mio avviso, secondo me non si sbaglia mai. Questo le fa onore. però, ovviamente, pure estesosi e rappresentandosi in tutta Italia, proprio per quella declinazione sentimentale che ci riguarda, essendo nella provincia di Roma, voglio parlare della nostra provincia. Tre buoni motivi di merito per considerare il classificato della nostra provincia. Qual è l'economia, per esempio? L'economia della provincia di Roma possiamo riferirla a quale settore? Il turismo a quale attività? Soprattutto è lo sport. La provincia di Roma è una provincia a mio avviso che ha molto del terziario. Una provincia che vale su questo. Le politiche che la provincia di Roma sta facendo su questo versante sono politiche adeguate. Questo è un versante sul quale un ente locale, come la provincia, deve cercare sul tema del terziario, sul tema dei trasporti e della comunicazione, dell'integrazione delle politiche dei trasporti, avendo una grande città nella quale coinvoglia tutta una serie di problemi e quindi i problemi dell'integrazione e anche dell'intermodalità del trasporto, sono uno dei temi centrali rispetto alla grande metropoli che sicuramente fagocita tutto il territorio della provincia stessa. Quindi occorre un giusto equilibrio, ma le politiche della provincia di Roma portano, almeno dagli ultimi studi, evidenziano uno spostamento che c'è stato dei cittadini dalla grande città alla provincia stessa. Quindi la provincia è una provincia viva, ha necessità però di integrare dal punto di vista dei trasporti le politiche in una grande area metropolitana. Questo è uno dei disegni che non è mai stato previsto dal legislatore, ma mai si è realizzato, cioè quello di creare una vera area metropolitana, cioè una città metropolitana che governi le politiche di rete. Nelle grandi aree metropolitane come Roma, Milano, Napoli, il legislatore nel 2001 aveva previsto l'istituzione delle città metropolitane, città metropolitane che determinavano il superamento della provincia e del comune capoluogo creando un unico livello di governo per governare al meglio tutta una serie di politiche su quell'area particolare. Questo dal 2001 non è stato fatto. Anche questa è una delle richieste che noi facciamo e che le province fanno, cioè di istituire al più presto le città metropolitane. Qui le responsabilità sono completamente diverse, però parlando della provincia di Roma, parlando di questo straordinario patrimonio in termini naturalistici, monumentali, no gastronomici, quanto il turismo è trainante? È un volano adeguato rispetto alla sua storia? La provincia, non parlo poi di Roma che fa la parte del Leone e ci mancheremo. A mio avviso è adeguato, la domanda diciamo è pertinente fatta a me, io vengo da Tivoli, Tivoli è una città della provincia, ha tre siti UNESCO, quindi c'ha la magnifica Villa Adriana, la magnifica Villa d'Est, c'ha Villa Gregoriana, quindi è evidente che la provincia... Non ho sottovalutata Villa Gregoriana, non da voi, ma è sottovalutata di una bellezza straordinaria. Quindi come Tivoli diciamo ci sono tutta una serie di realtà, penso ai castelli romani, penso alla parte del litorale laziale che va verso sud o quella che va verso nord, diciamo che c'è tutta una realtà rispetto alla quale il turismo va ulteriormente sviluppato, cioè per non creare l'unico polo di attrazione che è quello della città di Roma, grandissima, eccetera, ma a mio avviso la provincia deve valorizzare al meglio il territorio che le ha intorno. Ci fermiamo, l'ultimo stop e poi il rush finale in questa piacevolissima mattinata conversando col direttore Piero Antonelli, direttore del Lupi Unione Provincia Italiana, perché poi voglio con i suoi occhi osservare insieme ai nostri ascoltatori provincia per provincia il Lazio, quindi le caratteristiche della provincia di Riedi, di Latina, di Viterbo, di Frosinone, quella di Roma è, radiofonicamente parlando, è stata esaustivamente trattata. Mirko Bonocore.